Portano l'acqua dove non c'è e combattono il dissesto idrogeologico. Da sempre i consorzi di bonifica accompagnano la vita e il lavoro dell'uomo nella natura. In questo 2022 ricorrono i 100 anni dalla nascita della bonifica moderna in Italia, dal primo congresso nazionale delle bonifiche tenutosi nel 1922 a San Donato di Piave. Qui invece siamo a Sassomarconi per un forum dove protagonista è il nostro appennino, su cui in questi ultimi anni, complice la libertà sottratta dalla pandemia, si sono riaccese tante opportunità di fruzione turistica e dove storicamente le bonifiche si occupano di ricostruzione e manutenzione. È importante comprendere come i ruoli delle bonifiche si modificano nel tempo e in 100 anni proprio tornano al ruolo, fra virgolette, più di coesione, quello più tradizionale, che è un ruolo fondamentale in cui la storicità, la territorialità, i bisogni della popolazione vengono interpretati da questi consorsi che pochi conoscono, perché oggi soprattutto se ne conosce poco. Si pensa all'acqua, si pensa alle inondazioni, si pensa all'allontanamento, ma soprattutto qua in Appennino, chi lo vive sa che si parla invece di fruizione, si parla di contenimento delle acque, di recuperi spondali, di recuperi a livello anche geografico e artistico importanti, parliamo dei lavatori, ma parliamo anche di ponti, ma parliamo anche di strade storiche, parliamo anche di sentieri e questo va a collegare la comunità con la fruizione dell'ambiente. In un momento in cui si parla di economia circolare, ma anche di contatto con l'ecologia e con l'ambiente, credo che siamo perfettamente centrati in un ruolo fondamentale, che non è solo quello dell'acqua, che è il famoso oro blu, ma anche proprio della tutela dell'ambiente, quella che viene chiamata anche esternalità positivo, beneficio positivo. E le buone notizie ci sono per gli amanti del nostro Appennino, 5 nuovi progetti di sentieristica per altrettanti itinerari trekking, finanziati dal GAL Apennino Bolognese e affidati in esecuzione al Consorzio della Bonifica Renana. Attualmente sono in corso 5 interventi su altrettante situazioni sentieristiche, sicuramente quella più significativa riguarda l'anello di 16 chilometri, che da Riola di Vergato raggiunge le grotte di Soprassasso, una meraviglia poco conosciuta, ma ci sono interventi anche a Coretta Terme, a Sassomarconi, a Monte Renzio e in altre realtà. Inoltre di recente abbiamo presentato insieme un progetto che GAL finanzia, e che la Regione ha approvato, per una rete sentieristica da Castel di Casio a Camugnano, incardinata sul restauro del ponte di Castrola, un ponte sull'Imentra, a Schiena d'Agino, un ponte molto bello del 1850, realizzato all'epoca su un preesistente ponte medievale. Infine abbiamo ancora una disponibilità di risorse e nelle prossime settimane sentiremo dai comuni le richieste per realizzare ulteriori interventi di sentieristica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS